Scatta l'emergenza anche all'ospedale Umberto I dove è stato riscontrato un caso di coronavirus in un medico del reparto di cardiologia. Già ieri, quando si è preso della positività al Covid-19, sono state attivate tutte le misure di sanificazione degli ambienti di contenimento previste dalle disposizioni per gli operatori sanitari, come recita il decreto legge del 9 marzo. In buona sostanza è stata ricostruita la mappa dei contatti stretti su cui si è proceduto con le misure previste di controllo e di sorveglianza. Nel reparto dove opera il medico sono stati intrapresi i protocolli previsti per i pazienti e al momento sono stati sospesi nuovi ricoveri e le visite programmate per i prossimi giorni pur rimanendo attivo un percorso di garanzia per le urgenze. Le condizioni di salute del medico non destano particolare preoccupazione e per lui sono iniziate le cure per la guarigione. La palazzina adiacente alla struttura principale è stata oggetto di lavori di ampliamento e potenziamento del reparto malattie infettive per far fronte all'emergenza virus. Sono stati adottati alcuni accorgimenti importanti come il trasferimento del reparto di pediatria e pronto soccorso pediatrico all'ospedale Rizza. Ma rimangono alcuni problemi da risolvere, quale quello relativo alla vicinanza dei laboratori trasfusionali che si trovano al piano terra della palazzina. Il personale medico e gli operatori sanitari timbrano il beige collocati a pochi passi dal scensore in cui vengono caricate le lettighe con i degenti destinati a reparto di infettivologia. Suggeriscono di creare percorsi alternativi in modo da non fare entrare in contatto i pazienti del reparto con quelli affetti da Covid-19. Ha scritto una lettera invece il personale del reparto di radiologia dell'Umberto I. In un momento in cui siamo in piena emergenza per pandemia da Covid-19, la radiologia purtroppo non è stata fatta rientrare tra i reparti in prima linea. Proprio noi che contribuiamo alla diagnosi mediante raggi e soprattutto TAC, visto che quest'ultima spesso è di mente per decidere se intubare o meno il paziente a seconda della presenza e tipo di polmonite. Scrivono poi di essere esposti a rischio di contagio alla stessa stregua di quelli del pronto soccorso e del reparto malattie infettive. Scrivono poi